Tanta gente ieri sera ha riempito le vie del centro storico per la tradizionale visita all'altare della Reposizione. E' tradizione giovedì santo, giorno in cui si celebra la istituzione dell'Eucaristia, di conservare il pane consacrato per l'adorazione. I cristiani pertanto sono chiamati a stare un momento in adorazione per dialogare con il Signore, per ascoltare il Signore che parla al nostro cuore. Due sono le modalità attraverso le quali si conserva l'Eucaristia. Uno per gli ammalati, l'altro per l'adorazione. I segni che abbiamo dovuto quest'anno manifestare in quest'altare della Reposizione sono innanzitutto il pane, che indica la solidarietà, che indica la condivisione. Anche il segno del pesce, dove è indicato Gesù Cristo all'Ottore, figlio di Dio. L'altra indicazione fondamentale per noi è la croce. La croce è che è segno di amore, per cui quest'anno non abbiamo voluto coprire il Cristo morto sotto l'altare della Reposizione. Per indicare che il più grande gesto di amore è esattamente quello della morte di Cristo per amore. E l'amore porta sicuramente la pace. La pace nel senso che oggi è possibile soltanto se c'è la disponibilità del sacrificio, la condivisione, la solidarietà, l'amore vero, quello di Gesù. Qual è l'augurio per il venerdì santo, il sabato e la domenica in cui si celebrerà la Pasqua a tutti i trapanesi? Intanto poter fare veramente questa trilogia in maniera dignitosa, che intanto la città possesse una città rinnovata, a livello di amore vero, di fraternità, di comprensione, di dialogo, di disponibilità, energia da mettere assieme tra le persone che hanno responsabilità. E questo porta sicuramente al progresso. Il progresso porta alla condivisione, la condivisione porta alla pace. Ed è quello che vorremmo a tutti, le famiglie in maniera particolare, i più deboli, gli emarginati. Noi questa sera abbiamo avuto come lavanda dei piedi quattro detenuti, quattro bambine e quattro bambini, per indicare che tutti possono essere presenti ed essere nella Chiesa soggetti attivi.